Abbiamo presentato il campionato mondiale Superbike, abbiamo presentato il moto mondiale, concludiamo il giro dei video podcast di presentazione con la Formula 1, il campionato principale di questo format sportivo. Ai microfoni Matthew Torgard, dunque concludiamo quello che è la presentazione dei campionati motoristici internazionali che tratto ovviamente sul mio canale con il solito schema, quindi il calendario, poi parleremo dei piloti con una velocissima parentesi anche sulle categorie inferiori. Parliamo però del calendario perché c'è stata un'importante novità e ovviamente la vediamo nel Gran Premio di Cina, ovviamente il circuito di Shanghai era in programma anche in questa edizione per ospitare il Gran Premio cinese, ma appunto per l'allerta del coronavirus che sta impazzando anche in Italia, giustamente la federazione internazionale ha deciso di interrompere per il momento l'assegnazione del Gran Premio di Cina e sospenderlo adatta da destinarsi. Ovviamente sarà da vedere se sarà ricollocato già nel 2020 oppure spostato nel 2021 direttamente. Ci sono comunque delle novità perché tra due ingressi nuovi e un recupero dalla spazzatura i Gran Premi sono ufficialmente 21, con la Cina dovevano essere 22, ma andiamo a vedere che cosa è stato aggiunto. In particolare c'è una prima assoluta, ovvero il Gran Premio di El Vietnam, circuito con incredibile tradizione del motorsport, un circuito che viene costruito di fatto ad Hanoi, capitale vietnamita, che tra l'altro il circuito di Hanoi, che ovviamente è un cittadino, se lo guardate bene, ha una forma palesemente fallica. Però non andiamoci ad entrare in discorsi incredibili, di fatto più tecnicamente è un circuito dove ha una parte molto guidata nel finale, un rettilineo di millemila chilometri, perché ovviamente un sorpassa gara, lo dobbiamo vedere se no sia mai che senso andare in Vietnam. Un circuito di 23 curve, incredibile, Gran Premio fissato il 5 di aprile. La uscita nuova del calendario poi ha introdotto il Gran Premio d'Olanda, il circuito di Zandvoord, che di fatto è una novella Ungheria ancora più stretta, senza via di fuga. Tanto è vero che in Olanda stanno addirittura facendo dei lavori di manutenzione per provare a creare un punto di sorpasso, per cui figuratevi che bel Gran Premio potrebbe essere il Gran Premio d'Olanda. Già il circuito d'Olanda è stretto, figuriamoci, per ospitare un Gran Premio di Formula 1. Fatto sta che il Gran Premio d'Olanda sarà il quarto appuntamento stagionale, dunque successivo a quello del Vietnam, doveva esserci la Cina, ma appunto per il coronavirus c'è un buco di fatto di un mese, e dunque le due nuove entrate saranno di fatto consecutive. Doveva essere l'anno scorso l'ultima direzione del Gran Premio spagnolo, e invece così non è perché, come vedete, il circuito di Catalogna è stato fissato per il 10 maggio, quinto appuntamento stagionale. Tutti gli altri appuntamenti sono quelli dell'anno scorso, confermato anche il Gran Premio di Monza, 6 settembre, l'appuntamento italiano come quattordicesimo Gran Premio stagionale. Chi saranno i piloti a competere per il Mondiale 2020? Lo vediamo in questa schermata, sono di fatto gli stessi dell'anno scorso, con una sola novità, Nicolas Latifi approda in Williams la macchina Carbonella che noi tutti amiamo, che, incredibile ma vero, signori, si toglierà una soddisfazione clamorosa quest'anno, ovvero vincerà il Rookie dell'anno, perché ovviamente Latifi è l'unico, e dunque sicuramente la Williams tornerà agli onori della ribalta, della cronaca, con un trofeo incredibile. Il buon Latifi viene dalla Formula 2, campionato che correrà ancora una volta in supporto alla Formula 1, e affiancherà George Russell, che al netto che ha fatto schifo lo scorso anno, ma per evidenti problemi della macchina Carbone, che noi tutti amiamo, è comunque un pilota molto talentuoso. Parentesi Williams già fatta, parliamo però dei piloti che andranno a competere per questo campionato del Mondo 2020, che vi ricordo partirà il 15 di marzo in Australia. Partiamo da chi ha vinto meritatamente lo scorso campionato del mondo, ovvero la Mercedes ufficiale, Mercedes ufficiale che ha creato la macchina nuova, la V11, nei test si sono alternati Bottas e Hamilton, ovviamente, alla guida della macchina tedesca. L'obiettivo, ovviamente, del pilota inglese, il pluricampione del mondo, Lewis Hamilton, è quello di raggiungere Michael Schumacher, sia come numero di vittorie in carriera in Formula 1, sia come numero di mondiali vinti. Hamilton, vi ricordo, che ha vinto sei titoli del mondo e ha conseguito 84 vittorie in carriera, a meno sette da Michael Schumacher. Considerato che ci sono 21 gran premi e Hamilton è ancora il pilota più forte in circolazione, potrebbe essere un numero facilmente raggiungibile dal pilota inglese. Confermato in Mercedes, Valtteri Bottas, che viene dalla migliore stagione della carriera, nonostante Bottas sia una palese seconda guida. Sono quattro le vittorie aggiunte alla carriera di Bottas lo scorso anno. E' stato ovviamente confermato, doveva andare al suo posto Esteban Ocon, Ocon che, come vedremo, invece ha scelto un'altra strada. Comunque, se Bottas si conferma sui livelli della scorsa stagione, sicuramente potrà forse essere confermato addirittura per il 2021, a meno che non ci siano altre direzioni prese dalla Mercedes, ovvero mettere Russell, che è uno junior team Mercedes, al posto del buon Bottas, che comunque ha fatto anni di onorata carriera. La seconda macchina in pista l'anno scorso è stata di fatto la Red Bull, perché la Ferrari con le Clerc e Fettel ha fatto quello che ha combinato. Dunque, parliamo della scuderia austriaca. Io, come al solito, sto seguendo la classifica dello scorso anno, con, anche in questo caso, un pilota di punta da seguire, ovvero Max Verstappen, che se la Red Bull non si sveglia nelle prime dieci gare rischia di fare la stagione dell'anno scorso. La Red Bull è una macchina che, dall'Austria in poi, riesce ad avere un grande successo, cosa che, invece, prima, da qualche anno a questa parte, evidentemente fa fatica. Ovviamente la Red Bull, storicamente, è una macchina che va meglio nelle piste molto più aerodinamiche che, ovviamente, nelle piste di motore. Verstappen, se avesse una macchina ancora più competitiva, sicuramente potrebbe essere considerato un outsider per il titolo ai danni, ovviamente, di Lewis Hamilton, che, ovviamente, risulta ancora il pilota da battere. Confermato. Alexander Albon, l'anglo-thailandese, che per poco non ha centrato il primo podio in carriera in Formula 1 in Brasile lo scorso anno, ha fatto comunque molto bene da quando è passato in corsa dalla Toro Rosso al Red Bull. Sicuramente è una seconda guida. Albon, di certo, non si metterà a fare le scarpe a Max Verstappen e non ci andiamo neanche vicini. Tutto sommato, una coppia giovane, così, potrebbe essere molto affidabile per la scuderia austriaca che, da anni, non vince i titoli del mondo. Andiamo ai tempi di Vettel. Con Verstappen, sicuramente, potrà avere qualche possibilità, non in questo momento, ma, secondo me, nel futuro. Forse addirittura quando Hamilton si ritirerà. Però, vedremo se la scuderia di Adrian Neue e Chris Horner potrà costruire una RB16 sicuramente più importante. Sicuramente, in lotta per il titolo, va detto che da quando Red Bull e Toro Rosso ora Alfa Tauri sono motorizzate Honda, hanno fatto sicuramente dei progressi sia in numero di podi che in numero di vittorie. Passiamo alla Ferrari. Ferrari che, ancora una volta, conferma Sebastian Vettel e Charles Leclerc con, ancora una volta, grandissime dichiarazioni di Binotto, team principal della Ferrari che ha detto che, per le prime gare, Vettel e il Monegasco Leclerc saranno alla pari. Dunque, attenzione, signori, prepariamoci a vedere, ancora una volta, grandi casine nel Monegasco Ferrari per capire quali strategie incredibili il Monegasco che noi tutti amiamo potrà proporre nei primi Gran Premi stagionali. È chiaro che Leclerc, qui inquadrato, ha fatto una stagione veramente clamorosa. Ha vinto delle gare ai danni di un Sebastian Vettel che ha dimostrato in più riprese di essere un pilota falloso, non tecnicamente, ma soprattutto di nervi, soprattutto il giro di testa-coda fatto a Monza da solo a inizio gara è probabilmente l'emblema della stagione della Ferrari che è stata disastrosa. Nonostante alcune vittorie, sia quella di Leclerc, sia quella di Vettel e Singapore, c'è da capire che macchina abbiano progettato quelle della Ferrari che, tra l'altro, l'hanno ribattezzata SF1000 come, appunto, macchina nuova. Sicuramente è una macchina da scoprire, Vettel è diventato famoso anche in questi test per essersi girato da solo a Barcellona, ma ormai non fa più notizia. Bisogna vedere quanto, in realtà, tornando un attimo serie, la Ferrari si sia nascosta perché la SF1000 non ha dato mai l'impressione a Barcellona di, come dire, spingere fino in fondo, no? E quindi ha fatto tempi in sordina, non ha mai dato risalto alla prestazione, a differenza di altre scuderie che vedremo più avanti. Sarà veramente curioso vedere come se la caveranno i piloti e la scuderia a Melbourne al primo appuntamento stagionale. Una Ferrari che sicuramente dovrà prendere il 2020 come stagione del riscatto dopo la fallimentare, ripeto, stagione dello scorso anno. E le premesse non sembrano essere diverse se, appunto, il muretto si cimenterà in mirabolanti strategie ai danni dei loro piloti che è uno dei palesi motivi di interesse di questo mondiale 2020. Seriamente, in realtà, se la Ferrari riuscisse a concentrarsi subito su chi può essere il primo e il secondo pilota, secondo me, più possibilità di fare una stagione migliore dell'anno scorso ci sono. Io punterei su Leclerc, a essere onesto, perché ha già dimostrato di essere un bel talento, è il pilota sicuramente su cui puntare, è anche molto giovane, e Vettel deve fare probabilmente la chioccia al pilota monegasco. Probabilmente Binotto non la pensa così, vedremo che cosa succederà a Melbourne. Proseguiamo con la quarta classificata della stagione scorsa e io qui godo veramente come una bestia, perché dopo anni di buio assoluto la McLaren, che sì, ok, è una macchina arancione e io lo ammetto, tifo una macchina arancione, ma chi se ne frega, veramente ha fatto una stagione clamorosa, soprattutto perché ha trovato due grandi piloti, giovani e sicuramente di tantissime prospettive. Il podio l'hanno conquistato l'anno scorso con Carlos Sainz Jr., che appunto ha centrato il terzo posto in Brasile dopo la penalizzazione giusta a Louis Hamilton, che di fatto aveva sbattuto fuori Alexander Albon. Sono stato molto sorpreso però da Lando Norris, che d'accordo non ha vinto il rookie dell'anno, però come prestazione ha fatto veramente vedere tantissime cose. Norris potrà essere considerato, secondo me, insieme a Leclerc, insieme a Verstappen, insieme anche a Russell, uno dei possibili campioni del futuro che si giocherà il campionato del mondo. Veramente Norris già ha fatto bene lo scorso anno, secondo me se crescerà ancora potrà essere un pilota, secondo me, da Top 10 con costanza. Se le cose dovessero andare bene potrebbe forse centrare qualche podio? Speriamo. È molto difficile dal momento che, come al solito, Mercedes, Red Bull e Ferrari, essendo macchine con strutture più onerose, più grandi rispetto a McLaren, hanno più possibilità. Però, ovviamente, mai dire mai. Secondo me, Top 10 con costanza, noi della McLaren, ci possiamo arrivare sia con Norris sia con Carlos Sainz. Chi si deve riscattare dalla stagione scorsa, che è stata veramente orrenda e in vera e conda, è la Renault. Una Renault che, tra l'altro, ha presentato la nuova macchina, la RS20, con, appunto, qualche dubbio, non per questa stagione ma per il futuro, perché addirittura si parla di un possibile ritiro della scuderia francese. Tra l'altro, il Renault, che ha fatto una scelta abbastanza discutibile, ovvero quella di lasciare a piedi Nicola Sulkenberg, pilota sicuramente importante, ai danni di Esteban Ocon. Sebastiano Ocone, dalla Mercedes, ritorna indietro. Ocon ha fatto una stagione come terzo pilota in Mercedes, poi ha accettato la ferra della Renault e, dunque, la Renault gli ha offerto il posto da titolare al fianco di Daniel Ricciardo. Ocon è sicuramente un pilota molto talentuoso, ha vinto un campionato di Formula 3 ai danni di Luca Ghiotto qualche anno fa, ha dimostrato comunque già qualcosina in Formula 1 quando era nell'allora Forza India e sicuramente è un buonissimo ritorno quello del pilota francese. Sicuramente starà a Daniel Ricciardo dimostrare di essere ancora, invece, il primo pilota rispetto, magari, a questo giovane rampante francese che se ne parla veramente un gran bene, è un pilota veramente bravo. Ricciardo, anche lui, è un pilota che deve riscattarsi da una stagione veramente fallimentare perché addirittura la Renault si è fatta battere sistematicamente da un team clienti, ovvero la McLaren, per una scuderia ufficiale. Questo è tutto, fuorché una cosa positiva. Proseguiamo nella nostra panoramica del campionato di Formula 1 con l'Alfa Tauri. Alfa Tauri che ha centrato un grandissimo podio lo scorso anno, anche se si chiamava ancora Toro Rosso. L'Alfa Tauri, comunque, vi lo dico, è la macchina più bella esteticamente di tutto il Mondiale di Formula 1. La vedete? Con una livrea bianca con degli inserti neri e qualche spruzzatina di blu per una coppia confermata. Una coppia giovane che ha già dimostrato comunque qualcosina per starci comunque in Formula 1. Gasly e Kiat vanno più che bene. Gasly ha fatto una metà stagione in Red Bull paurosa, al contrario, però è una stagione veramente inguardabile. È andato in Toro Rosso con la mente più libera, addirittura ha centrato un grandissimo podio in Brasile battendo in volata Lewis Hamilton che aveva, per la verità, problemi con la macchina. Confermato anche Daniel Kiat che anche lui ha fatto un podio con la Toro Rosso ad Hockenheim in una gara pazza però evidentemente quel podio basta e avanza per confermare un uomo che io vi ricordo due anni fa era quarto pilota Ferrari non faceva manco le sessioni in pista ma al simulatore l'hanno recuperato anche lui dalla spazzatura veramente incredibile bravo Daniel Kiat a essere anche una volta presente in Formula 1. Chi si deve sicuramente riscattare o comunque migliorare rispetto allo scorso anno è l'Alfa Romeo e qui apriamo un attimo il capitolo delle scuderie clienti Ferrari perché la Ferrari l'anno scorso ha fatto abbastanza pietà dal punto di vista dei risultati scuderia ufficiale ovviamente ma non che i clienti se la siano cavata meglio perché ovviamente sia la Haas sia l'Alfa Romeo clienti Ferrari hanno veramente faticato l'Alfa Romeo conferma il venerabile maestro The Iceman Kimi Raikkonen che alla soglia delle 41 primavera continua a correre e chissà che possa essere questa l'ultima stagione in Formula 1 per il venerabile maestro Antonio Giovinazzi tiene alta la bandiera italiana ancora una volta in questa stagione per il 2020 confermato dopo le ottime prestazioni fatte nel finale della stagione dopo l'incidente di Spa a Puon sembrava che Giovinazzi venisse scaricato in favore di Marcus Ericsson che è terzo pilota Alfa che corre in IndyCar poi Giovinazzi si è riscattato a Monza a Singapore nel finale di stagione anche in Brasile ha fatto un'ottima prestazione e dunque si è meritato la conferma per quanto riguarda il posto per il 2020 concludiamo il discorso dei clienti Ferrari parliamo della Haas che è una squadra che è stata passata alla storia praticamente perché i due piloti Romain Grosjean e Kevin Magnussen si scarenavano a vicenda si buttavano fuori se gli dicevano di tutti di più veramente erano dei meme ambulanti quelli della Haas e incredibilmente Gunther Steiner patron della Haas li ha confermati entrambi perché a quanto pare non c'è niente di meglio in giro io sono onestamente perplesso che sia Grosjean che Magnussen siano stati confermati in Formula 1 dopo aver fatto una stagione veramente orrenda e pietuosa e un agente come Magnussen e altri piloti più talentuosi anche delle categorie inferiori per esempio De Vries e lo stesso Luca Ghiotto siano rimasti fuori ad andare a cercare fortuna altrove è incredibile però anche la Haas è presente con lo stesso team dell'anno scorso sperando che facciano ovviamente meglio del 2019 e chiudiamo con la incredibile sorpresa dei test di Barcellona ovvero la Force India o Racing Point chiamatela come volete la RP20 signori è passata la storia perché tutte le squadre o quasi tutte quantomeno non di marca Mercedes hanno evidenziato quanto questa macchina fosse simile alla V19 ovvero la macchina che di fatto ha dominato gli scorsi campionati soprattutto l'ultimo quello della Mercedes ufficiale ovviamente e tanto è vero che nei test si vedevano robe clamorose ovvero Sergio Perez ma soprattutto Lance Stroll con la incredibile macchina rosa nei primi posti dei test d'accordo che i test come ho già detto anche per la MotoGP contano veramente pochissimo però evidentemente una macchina che fino all'anno scorso faceva veramente pietà o meglio che puntava soltanto con un solo pilota ovvero Perez sia veramente di colpo da prime tre posizioni addirittura quinto Stroll per sbaglio vabbè robe veramente inenarrabili secondo me con le prime gare la Racing Point tornerà a più miti consigli nelle stagioni belle si è dimostrata una macchina da prime posizioni con costanza da zona punti con costanza meglio e secondo me quello può essere il range per una buona stagione il resto veramente faccio fatica a credere a qualcosa di diverso della Williams l'abbiamo già parlato è una macchina che comunque ha avuto lo stesso spunto della macchina precedente per la gioia di Russell che già faceva fatica l'anno scorso con la macchina carbonella figuriamoci quest'anno con la nuova FV43 veramente incredibile quello che sta succedendo in Williams ed è abbastanza clamoroso il fatto che una scuderia così gloriosa sia purtroppo relegata al fondo della classifica comunque questi sono i piloti che parteciperanno al campionato mondiale di Formula 1 a partire dal 15 marzo in Australia fatemi sapere secondo voi chi potrebbe essere il favorito per questo campionato del mondo delle categorie minore ne parleremo comunque in un video a parte perché anche lì c'è molto da dire il saluto da parte di Mike Thorgard e ci vediamo dunque al prossimo video